Come sarei aspettata e grazie a ciascuno di voi se da domani in fabbrica, in negozio, a scuola, in azienda, in università convince tutti che cambiare si può, cambiare si può, cambiare si può. Se lo facciamo tutti insieme, prendiamo il 51% dei voti e Renzi va a lavorare, magari in quell'azienda di famiglia per cui qualcuno gli ha pagato i contributi e la Boschi va a lavorare magari in quella banca dove il papà era vicepresidente e qualcuno ha provato ad aiutare. Grazie, siete fantastici, viva la Lega e viva chi resiste, chi crede ai combatti. Buon rientro, buon rientro, buon rientro.